Musica Bella ragazzi come merce che bentornati nel mio canale oggi signori Siamo tornati qui con un nuovo video per quanto riguarda le sfide settimanali della season numero 5 Siamo alla settimana numero 2, spero che questa season vi piaccia appunto A massimo ditemelo nei commenti come sta andando, a che livello siete, del pass normale, cosa avete sbloccato eccetera Andiamo subito a leggere cosa ci fanno fare questa settimana Infliggi danni ai nemici con fucile d'assalto, molto semplice Cerca forzieri a sponde del saccheggio Vi dico che le fabbriche e quella recensione verde le conta Oppure direttamente in casa o in giro per il lago insomma Cerca 7 scatole di munizioni in una singola partita, quindi in una partita sola Non potete cercarne 3 in una, 2 in un'altra e così via Fai canestro in diversi campi da basket Quindi potete farlo anche in più partite questo Cerca tra un osi, un arco di rocce e dei dinosauri Qui andremo a vedere dove si trova la stellina Eliminazioni con fucile di precisione Elimina nemici a palmetto paradisiaco Che è la nuova locazione sulla map Voi basta che vi recate in questo punto E potete prendere la stellina così per avere 10 stelline per salire di un livello del vostro pass battaglia I campi da basket sono questi Vi metto anche una piccola mappa in modo che possiate capire al meglio dove sono situati Grazie a tutti Mentre per Elimina nemici a palmetto paradisiaco Dovete semplicemente andare lì Fare la peggio strage Infatti diventa la pinnacoli 2 Cioè pinnacoli sarà praticamente vuota quella settimana Spero che riusciate a completare queste sfide Mannaggia l'ama che purtroppo nella scorsa settimana ha fatto disperare parecchie persone Spero che l'abbiate trovato Che dire questo video si conclude qui In caso della stellina segreta vi lascio appena la trovo il link dello screenshot in descrizione della locazione sulla mappa Spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto Se è così vi lascia un video se mi piace Condividere il video a tutti i vostri amici Passare dal gruppo più grande d'Italia di Fortnite Attenzione di Facebook che si trova in descrizione Passare al mio canale di Telegram che trovate in descrizione Ho aperto anche un gruppo di Telegram dove potete entrare e scrivere tutti Trovare amici, persone con cui giocare eccetera Vi lascio il link in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video Bella